Buongiorno a tutti! Buon per voi 13 gennaio, per me il giorno prima. Quindi basta, ora do la regola. Io dico buongiorno a voi, quindi buon 13 gennaio, che è domenica. E andrò domani però. Quindi buon 13 gennaio a voi, buon sabato a me. Basta, niente regole, tanto mi impiccio. Allora, oggi si lavora di pomeriggio. Diamo il cambio con Gabri, perché il nido ovviamente è chiuso essendo sabato. E quindi facciamo tipo staffetta. E bello perché mia madre mi vuole viziare e mi ha detto Chiara mandami un elenco di cose che mi devo comprare. Idem la mia migliore amica. Perché dormirò dalla mia migliore amica, però ovviamente starò anche da mia madre. Quindi mangerò un po' qua, un po' là. E tutti quanti mi vogliono viziare. In realtà vogliono viziare Lucia, però... Per fare ovviamente... Per non farla sporca, mi dicono pure te, ma che vuoi qualcosa di particolare? E comunque sono felicissima di partire, felicissima. Stamattina io e la Lucy siamo andate a riscuotere un buono... Ad utilizzare, diciamo, un buono che avevano fatto per il suo compleanno delle mie amiche. De alla Benetton. E ho comprato della roba carinissima, ma le commesse pessime. Ma veramente pessime. Cioè, che vi posso dire? A parte che mi vedevano in difficoltà, perché... Lucia... Sono andata con Lucia in braccio per non prendere il passeggino. E non mi hanno dato una mano. Ho chiesto informazioni. Si, guarda, le trovi lì. Io pure... Magari dovevo dire, vabbè, ma mi fai vedere te. Però sono state talmente... Mi hanno detto proprio, sono fuggite. Cioè, hanno fatto... Si, guarda, sono lì, ciao. E sono andate via. Comunque. Riscosso il buono e sono felice. Cose un amore. Perché le ho preso. Due maglioncini. Sembra due magliette. Tre sotto. Insomma, cose bellissime. E poi soprattutto i body. Perché ne devo dismettere diversi. Perché la puzzola è cresciuta, ovviamente. E ho notato che ho diverse cose della Benetton che mi hanno sempre regalato. I genitori della mia migliore amica. E, ad esempio, le hanno presi i pantaloni un anno. Ma le stanno giuste giuste. Quindi ho preso la taglia successiva. Che è due anni, quella mi ha detto. Quindi, a rimedi farò il risvoltino, non lo so. Però proprio un amore. Da una parte è sprecato per il nido. Però, avete una? Meglio così. È stata. Allora, ieri sera mi ero messa paura. Perché la sono andata a prendere al nido. Ed era stravolta. Proprio con gli occhi lucidi. Dico, mamma mia. A casa piangeva con i lacrimoni. No, ha fatto così. Prima era stanca, stanca. E la sono andata a prendere alle 5 e mezza. A casa alle 6 e un quarto già dormiva. Si è fatta un'ora e mezza. Poi ha mangiato. Ha cominciato a piangere. Prima di mangiare ha cominciato a piangere. In maniera disperata. Con i lacrimoni proprio. Con i lacrimoni. E quindi dico, mamma mia. Ma che cos'è? E ho pensato i denti. Perché ha delle gengive bianche. Allora gli ho dato la tachipirina. Comunque poi si è rilassata. Dopo due ore ha dormito di nuovo. Per svegliarsi 12 ore dopo. Stamattina alle 9 e 45. E niente. Poi le ho dato un budino. Siamo uscite. E ha pranzato. Ha mangiato la pasta col pesto. Le ho fatto. Il pesto è si lunga. E le è piaciuto tanto. Nel mentre aspettava che cuocesse la pasta. Le ho dato due fette di prosciutto cotto. E la divorate. E quindi. Bene. Lei diciamo è sazia. Poi dopo. Dopo un'oretta ho mangiato io. Me la sono messa vicino. E mi hanno voluto pure un po' di spinaci e di pollo che avevo io. Benedica. Stasera come tutti i sabati. Ci piace come tradizione. Pizza. Ci facciamo portare la pizza a casa. Voi ce l'avete una tradizione. Che ne so a casa. La pizza al sabato. La pizza domenica. La fate voi. Guarda. Mi dovrei migliorare a farla la pizza in casa. Però. Ovviamente dovrei anche avere il pomeriggio libero. O magari. Sì libero. Perché anche se c'è a casa Lucia. Magari torno e faccio l'impasto. Non è che ci vuole poi tanto. Però lavorando. Non si puede. Non si puede. Poi sinceramente. Ritorno stasera a lavoro. Sono da lavoro. E sono contenta di trovare da mangiare. Quindi va bene la pizza. A domicilio. Stavo pensando anche nella settimana che sto giù a Civitavecchia di allenarmi. Se lo dico alla mia migliore amica mi scuda in faccia. Perché lei odia questi discorsi. Però. Tanto nella palestra a lei piace. La palestra dove va è praticamente per lei una comitiva. Magari mi aggrego. Io faccio gli attrezzi. Per una sera. Vediamo. Magari faccio un ingresso. Due ingressi. E una corsa per dire. Così da mantenere i tre allenamenti a settimana. Diciamo. Vedo un po' come strutturare la faccenda. Vedo un po'. Perché tanto ci saranno persone che lotteranno per stare con la Lucy. Quindi. Magari me ne vado in palestra. Vediamo. Vediamo. Vediamo perché poi arrivo lì. C'è il mare. Voglio stare con Lucia sul mare. Quindi poi decadono tutti gli intenti. E non vale il discorso. Ma in vacanza non si va in palestra. Perché non è che ci vado per dovere. Ci vado perché come vi ho detto. Mi piace. Sto meglio di testa. Quindi sinceramente. E ci andrei insomma per questo motivo. Qua il tempo è bellissimo. Perché fa freschetto. Ma c'è il sole. A me va bene. Stamattina ho girato tre video. Belli perché. I propositi del 2019. I regali di Natale. E. E l'inserimento al dito. L'inserimento al dito. E l'idea del dito. Perché ne ho parlato. Ho pensato. Di averne parlato appunto. In una chiacchiera. Così. Mentre vado al lavoro. Però. Non ne ho. Non ho approfondito. E così ho fatto un video dedicato. E se lo vuole vedere. Se lo vede. Spero che vi piaccia. Ma. Queste chiacchiere hanno. Molti riscontri. Quindi. Sono contenta. Sono contenta così. E. Oggi mi sono truccata. Un po' più strutturata. Anche se. Avendolo fatto stamattina. Alle sette. Non so adesso. Come sto. Essendo stata tutta la mattina. Con Lucia. Magari mi ha sbavato un po'. Però ho messo. Il double wear. De stelotere. Quindi penso sia cemento armato. Che non mi si sia scostato dal viso. Dato. L'effetto un po'. Farinoso. Un po' chechi. Mi sono spruzzata. Più e più volte. L'acqua termale di Aven. Per cercare di dare un po'. Un aspetto più morbido. Ma. Speriamo di esserci. Di esserci riusciti. Poi. Due considerazioni. E vi lascio. Voi siete più team. Peli. O team unghie. Cioè. Ho notato che. Tutte noi. Bene o male. Andiamo dall'estetista. C'è chi. Va. Per la ceretta. C'è chi va. Per le mani. Prevalentemente. Io faccio parte del team. Mani. Perché. Ho sempre fatto con. Con la lametta. Anche se divento dei periodi. Un po' orzetta. Non. Cioè. Non mi interessa. Non ci ho mai fatto. Un particolarmente. Caso. Forse. Forse. Cioè. Sbagliando. Però. E. Infatti. Ora. Già appuntamento. Per le mani. Ma. Avrei anche necessità. Di una ceretta. Però. Non lo prendo. L'appuntamento. Perché. Adesso. La prossima volta. Mi faccio bella. Io. Con la lametta. Ceretta. E cose varie. Che ho a casa. E notavo. Che le donne. Si dividono. Proprio. In questi due. Io. La mia migliore amica. Siamo più team. Unghie. Ad esempio. Invece. Un'amica che ho qui. L'omonima che ho qui. È più team. Ceretta. Non so. È così. Che tra l'altro. Un'altra amica invece. Che faceva sempre il gel. Ha detto. Ho fatto il gel. Per otto anni. Ora. Se l'è tolta. Ovviamente. Ha detto. L'unghia è rovinata. È sottile. È sottile. Tutto. Io. Lo so. Che anche a me. Accadrà questo. E soffrirò. Tra un po'. Però sinceramente. Anche il semi permanente. Me lo aveva rovinato. In più. Sono pronta. A subire questo. Perché. Per il momento. Sto talmente. Bene. Curata. E le unghie. Sono. Così. Indistruttibili. Che va bene tutto. Adesso. È passato un mese. Perché oggi. È. Oggi. 12. Io. Il 19. L'ho fatto. Quindi. No. Tre settimane. Ma. Sono. Perfette. Perché. Poi. Avendo fatto la French. Quindi. La base. Chiara. Chiara. E la crescita. Proprio. Non si vede. E quindi. Niente. Soddisfattissima. Allora. Quindi. Due domande. Per voi. La prima. È se avete una tradizione. Un'usanza. Che ne so. Sabato pizza. Sabato sushi. Così. E se siete. Team peli. Team unghie. E. Ora vi mando. Un mega bacio. Leggete. Sempre. 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 L'info box. Perché. Lì. Vi metto tutto. E noi ci vediamo. Al prossimo video. Ciao ciao.